Aggiornamento di Sheldani del per la Gerarchia Spirituale e la Federazione Galattica. 10 aprile 2012. Drazo. Torniamo. Gli eventi si stanno susseguendo. Nel mondo post-pascuale molti dettagli iniziano a diventare evidenti. In Asia si sono tenute le recenti conferenze, che hanno gettato i presupposti per la nuova realtà, che sta per delinearsi intorno a voi. In queste riunioni si è deciso che un certo numero di fondi di prosperità verranno destinati alla creazione di una condizione di un benessere permanente per l'Asia. Conferenze simili si sono svolte in Europa e nelle Americhe. Le enorme quantità di ricchezze accumulate dai maestri ascesi saranno devolute in tutto il mondo per porre fine alla povertà e per promuovere la salute e il benessere per tutti. Altri fondi verranno messi a disposizione di persone prescelte al fine di creare un altro canale per la diffusione di queste sorprendenti somme di denaro. Queste risorse dovranno essere utilizzate per introdurre le nuove tecnologie, che saranno rese disponibili per i vostri settori della sanità, dell'agricoltura e dei trasporti. Si formeranno una serie di collaborazioni reciproche, che permetteranno di rendere pubbliche e sviluppare una grande quantità di informazioni, che vi sono state celate da molto tempo. Queste nuove informazioni e queste nuove tecnologie saranno un buon punto di partenza per spostare e vostre società attuali verso la luce. La nuova forma di governo e il nuovo sistema finanziario saranno agevolati da questa nuova abbondanza globale. Il cielo ha iniziato ad usare i suoi poteri infiniti per garantire un'accelerazione di questo immenso cambiamento nella consapevolezza. Noi siamo solo una parte di questa complessa operazione di transizione del vostro mondo verso la luce. Un altro punto da chiarire riguarda lo scioglimento dell'alleanza di Ankara, che ha bruscamente interrotto il sostegno di cui beneficiava la cabala oscura. La perdita di questi alleati di valore ha creato divisioni tra questi individui oscuri e nei gruppi da loro controllati, e questo è un evidente segno, per coloro che sanno, che i giorni della cabala sono giunti al termine. Questo gruppo sta ora freneticamente cercando di garantirsi un accordo con la luce per una riduzione della pena prospettata. Lo scopo, che ora il cielo si prefigge non è quello di punire eccessivamente questi malfattori, visto che una giusta pena servirà come mezzo per spazzare via le vecchie energie oscure del vostro mondo, rimpiazzandole in modo permanente con la luce. I maestri ascesi stanno preparando le nuove istituzioni finanziarie, che dovranno essere il nucleo centrale del nuovo sistema bancario. Questo sistema consentirà di rendere efficaci le nuove politiche governative, introdotte con i nuovi governi. Ad esempio, le banche diventeranno un mezzo per distribuire la nuova ricchezza, in quanto ogni individuo necessita di un mezzo per veicolare il denaro verso gli altri e per avere accesso ai manager, che potranno garantire il successo delle nuove collaborazioni, che si svilupperanno grazie alle tecnologie da tempo negate all'umanità. Le vostra società sono piene di professionisti qualificati, in diritto, in medicina, e nella produzione alimentare, la cui esperienza deve essere reindirizzata al servizio della nuova prosperità e per garantire che tutti debitamente rispettino la sovranità e la libertà appena acquisita. Vivrete in un mondo in transizione, e man mano che acquisirete livelli più alti di consapevolezza, inizierete a meglio comprendere quella che noi chiamiamo una società galattica. Questo prevede un profondo riordino di come operano le vostre società globali, e la strada da seguire sarà evidente grazie alla vostra nuova struttura di governo, che lavorerà diligentemente per trasformare il vostro mondo. La vostra società galattica sarà fondata sul rispetto di ogni individuo e sulla completa gratitudine per la Madre Terra e per le sue diverse forme di vita. Promuoverà inoltre l'unificazione della Terra interiore con la Terra di superficie. Queste entità attualmente separate stanno per ricongiungersi, permettendo a ciascuno di voi di usare i vostri talenti e le vostre abilità uniche per sostenere il vostro pianeta natale e le sue sorprendenti strutture ecologiche, in vario modo interconnesse. In un futuro prossimo questo compito primario verrà ampliato fino ad includere tutti i mondi d'acqua del vostro sistema solare. Scoprirete che questi mondi sono di fatto interconnessi e fanno parte di un'entità il cui benessere è stato affidato a voi. Questo è il motivo per cui il mandato divino sancisce che ve neate riportati il più rapidamente possibile al vostro stato di esseri di luce e pienamente consapevoli. Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso la nostra missione di primo contatto. Gli Agartiani e tutti noi siamo interamente dedicati nel farvi raggiungere questo stato di grazia divina, e a tal fine abbiamo istituito un programma, debitamente approvato dal cielo, per conseguire questo obiettivo e per farvi entrare a far parte, a pieno titolo, della Federazione Galattica di Luce. Namastè. Noi siamo i vostri maestri ascesi. I nostri associati hanno pianificato molte importanti attività nel periodo successivo alla Pasqua. In questo periodo è prevista la contabilizzazione veloce e dettagliata di tutti i fondi disponibili. Si terranno inoltre le sessioni di pianificazione conclusive, insieme ad uno specifico gruppo di azione, assegnato dal Consiglio Principale di Agarta. Pertanto, la prossima settimana sarà dedicata alla definizione di tutte le azioni necessarie per fare pressione sui governi interessati, tutto questo sarà sottoscritto e pianificato, per definire un programma, un'azione comune e un calendario definito. Questo calendario contiene la sequenza dei tempi per il completamento delle attività, che verranno avviate da numerosi governi di transizione in varie parti del vostro mondo. Il nuovo sistema bancario e finanziario è pronto, in attesa della caduta di molti regimi oscuri, successivamente questo nuovo sistema diventerà la norma per tutte le nazioni più importanti. Per attuare tutto questo è stato previsto un nuovo sistema monetario, che allo stesso tempo porrà fine all'attuale dominio del dollaro americano. Questa trasformazione delle vostre reti monetarie e finanziarie libererà il vostro mondo dalla miseria e dalle molte forme di privazione, che ora affliggono le vostre società. Il vostro mondo ha bisogno di un punto di transizione per preparare l'enorme prosperità, che in breve tempo verrà percepita come normale. Le nuove tecnologie porteranno questa abbondanza fino al punto in cui le esigenze di una cultura basata sul denaro diventeranno obsolete. A quel punto avrete raggiunto il momento in cui la vostra percezione attuale della società e delle sue tradizioni potrà finalmente scomparire, ed essere sostituita dalla verità e dalla saggezza divina. Si comincerà a capire come e perché funziona la società galattica. In realtà abbiamo osservato quotidianamente questi concetti nel corso del nostro soggiorno nelle città di Cristallo di Agartha. La grazia divina ci ha dato l'opportunità di assistere tutti voi nel cammino verso la piena consapevolezza e verso una nuova realtà. L'importanza di questo periodo dell'anno conferisce una meravigliosa sincronia all'arrivo della vostra nuova realtà. Cercate di intuire l'intensità di questi cambiamenti. Verrete a conoscenza di tutti noi. In questo modo potremo fornirvi una serie di insegnamenti molto importanti, che spazzeranno via molte delle vostre attuali convinzioni al riguardo del cielo e della terra. Il cielo è una energia divina da cui scaturisce tutta la vita. Non si tratta di paura, ma di amore. Tutto si riferisce alla grazia divina e all'unione universale. La divisione non viene dal cielo, ma dall'oscurità. Quindi non siate nella paura. Siate nell'amore. Provate a sentirvi parte dell'unione squisita di cui fate tutti parte. Gioite immergendovi in questa energia, e sappiate nei vostri cuori, che la vostra realtà attuale e le vostre difficoltà stanno per trasmutarsi in gioia, meraviglia, e infinito amore. Noi viviamo in questa meravigliosa realtà, e sappiamo che questa energia meravigliosa sta scendendo su tutto ciò che è di questa terra. Oggi abbiamo discusso di cosa è pronto ad accadere nel vostro mondo. Il cielo ha incrementato le energie necessarie per la transizione del vostro mondo nella luce. Tutti noi veniamo a voi nell'amore e con il caro desiderio di trasmutare la vostra realtà nella luce, il più rapidamente possibile. Sappiate, carissimi, nel profondo del vostro cuore, che le illimitate risorse e l'infinita prosperità del cielo sono davvero vostre. Così sia. Selamat Gaiun. Selamat Ya, in siriano siate uno nell'amore, siate nella gioia. Traduzione Gualtiero Costanza 2003